Tredicesima festa regionale dell'Associazione Nazionale dei Pensionati Cia Puglia, presso l'agriturismo Masseria Colle Carro ad Altamura, dove sono arrivati da tutta la regione gli anziani agricoltori associati ANP. Contrastare il crescente disagio degli anziani, cambiare verso alle pensioni basse è tema ineludibile l'argomento al centro del dibattito, coordinato dal vicepresidente regionale Cia Puglia Gian Nicola D'Amico. Tradizionalmente la nostra festa regionale dei pensionati ha sempre tracciato il quadro della situazione in materia di sanità verso gli anziani, in materia di pensioni. L'incontro che abbiamo organizzato verteva a incontrare i parlamentari pugliesi di tutti gli schieramenti. Registriamo con rammarico la totale assenza di tutti i parlamentari pugliesi verso un tema così importante come quello delle pensioni più dignitose. Il 43% dei pensionati agricoli pugliesi percepiscono meno di 500 euro, il 44% vive in situazioni di semi di povertà, il 10% non riesce a acquistare il proprio pranzo quotidiano. Una situazione davvero sconvolgente sulla quale come Cia, come ANP, come INAC, il nostro patronato a livello nazionale stiamo conducendo una grande battaglia. Un confronto aperto sull'aumento delle pensioni minime, possibilità reale secondo il presidente nazionale padronato INAC Cia, Antonio Barile. Noi riteniamo che ci sono spazi per aumentare le pensioni basse e per migliorare tanto le future pensioni degli agricoltori, perché con il sistema contributivo nei prossimi anni avremo pensioni molto al di sotto di quelle attuali. Tra le priorità dell'ANP, Cia Puglia, che la scorsa primavera ha confermato il presidente Francesco Tinelli, il ricambio generazionale nelle imprese agricole, con maggiore spazio a giovani, donne e innovazione, ma anche il potenziamento e una migliore distribuzione territoriale delle strutture sociosanitarie. Siamo convinti che l'anziano va mantenuto nel proprio ambiente, in buona salute e non con tutti gli acciacchi che oggi ci sono. Quindi la prossima battaglia, la prossima, stiamo già facendo anni, il prossimo incontro verterà semplicemente su questa questione qua.